Buongiorno da Ilegna e da Morgana! Dunque, dopo la delusione dell'ultimo video delle LOL, abbiamo pensato di fare un altro video subito però non apriamo una LOL ma abbiamo deciso di aprire due blind bag Ammazza che voce, mi è arrivata una due blind bag nelle orecchie Allora, apriamo Princess Disney Magici Castelli, solo 3,90 euro Contiene un personaggio racchiuso nel castello in allegato al mega fanbook Ci abbiamo su, ci abbiamo, mamma mia, l'italiano ragazzi La Bella e la Bestia, ce ne entra Beh ma le conosco, Biancaneve, Aurora, la Sirenetta E questi qua sono i 1, 2, 3, 4, 5 castelli che si possono trovare Ed è la Giochi Preziosi, da 0 a 3 anni non si può usare Qui potete leggere tutto quello che vi interessa Sì, non è che metta a fuoco Sarebbe anche ora Vuoi aprire tu? Sì! Vai! Le nostre amiche LOL comunque hanno voluto restare qua anche loro a vedere cosa troviamo Magari che una principessa si aggiunge E chi è? Sì, Ariel! Oh tesoro, che meraviglia! Sì, quella che piace a me Ma va, sono sempre quelli che piacciono a te comunque No, ma io ho proprio questo Volevo questa qua perché tiene il vestito con la mano Beh ma questa qua io non ce l'ho mica più grossa Uguale La mia Vai a prendere la tela? Magari un po' in polvo a vedere Intanto io la faccio vedere Allora, abbiamo trovato Ariel Davvero? Dagli una pulitina veloce magari Che è lì Certo, io cosa gli racconto? Certo, parlo sempre Sì, potevano farla un po' piena qua però Comunque, questa è la nostra Ariel Eccola qua Questo è davanti, questo è dietro Disney, non so che Poi c'è allegato il checklist No, non c'è più niente Ali Questo è il castello trasparente Morgana mi sta disfando la casa nel frattempo Ma ci sta almeno No, non ci sta neanche in piedi tra l'altro Ah no, aspetta, sì, guarda Aspetta, non chiudela Dobbiamo mettere quella sassurina la più grande Sì, no, ma volevo A parte che qua sfoca tutto Va fuori fuoco No, volevo solamente Aspetta che nel frattempo vediamo un attimino Ogni principessa è racchiusa nel suo scintillante castello Wow Uno, due, tre, qua Sì, sono cinque Ariel, Cenerentola, Biancaneve, Belle e Aurora Tutto qua? Che sforzo, farlo un pochino più grande, no? Allora Vediamo Lucky Intanto c'è Lucky che lei giustamente Questa qua è la mia È della BulliLand Sì Dove l'avevamo presa? Si è anche rovinata A Rimini L'avevamo presa a Rimini al mare? A Siavilandia Ah, ecco, vedi Sono praticamente Identiche Medi a fuoco, se riesci Medi a fuoco Sì, più o meno Medi a fuoco Sì, sono praticamente identiche L'hanno copiata spudolatamente Solo che questa qua Vabbè, è fatta meglio Ebbè, ci crede una tatuetta Sì, beh, ma è di gomma Plastica Cos'è? Poi Abbiamo Visto che ci mancavano A me no Slime A me no Queste cose qua Piacciono solamente a te Tu fratello Fai vedere prima il Allora, questa Se ne ha legato Ti danno anche Questa qua Il libro Sì, poi c'è la Scusate, ma c'è il riflesso Della luce Sono le Cinque di sera E quindi Allora Con il gusto C'è Zucchero filato Lampone Arancia Lime Anguria Torta Anici Caramella Limone Mela Frago Il cioccolato Noi cosa cavolo abbiamo preso Al Boh Come bo Mi sa lime Lime E' della Sbabam Sbabam Allora Qua Ti dice Ti fa vedere un po' Sì È tutto spiegazzato Il mostro gelatinoso Il combattimento Lino Bello E qua ci sono Gli esercizi Che gli ho fatti Sì, certo Giustamente Ha fatto il labirinto No Mr.Baloo Così è arrivato Mr.Baloo Ah forse Ah ok Elio per gonfiare I palloncini Eccoci Qua ti dice Finalmente Ne dico La gioco e divertiti Un chilo profumato Melmito slime L'originale Hashtag Non penso proprio Che vi comprerò Un chilo di slime Per piacere Sì Ascolta Possiamo aprirli? Eh dunque No Aspetta Dovremmo anche dire Cosa l'abbiamo pagata A meno che le ragazze Se vanno Allora l'abbiamo comprato 2 euro e 99 Bravissima 3 euro Sì Vai Morgana Sono a forma di macaron Uno va a Morgana E uno va a Mirko Giustamente Io devo ancora Ma perché devi Prega c'è lo scotch No Morgana fai così Io non voglio Che stai dentro Che fortuna Allora noi abbiamo trovato Zucchero filato Ah no O zucchero filato O anice O mela E lime O mela O lime Poi c'è o caramella O lampone O cioccolato O torta Fragola Unguria Limone Vedi 6 colori E 12 diverse profumazioni Trova le tutte E se lo trovo doppio Dove mi schi Che schifo Io quale apro No Decidi Tu apri quale apri Verde Vai Questo di cosa puzza Non si sente niente Come si apre Vai Da lì Ti aiuto Oh Oh sì Che bello Oh vedi che te l'avevo detto Guarda cosa c'è dentro Aspetta Aspetta Queste cose qua Quando lavoravo il fimo Io le usavo Sentire Ah anice Cos'è che è O anice Anice O zucchero filato E' anice Io 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 Che bello Vabbè si sta rovinando subito E no vabbè magari loro vogliono sentire Perché so che piacciono i rumori dello slime A me no Però E' abbassato Certo che nella pubblicità Ne fanno vedere sei chili e mezzo Di quei cosi qua che escono Eh già E' abbastanza Così è latinoso Carino però eh Vediamo se si vedono le lol Senti che puzza di Di anice A me piace la sambuca Quindi Posso aprire? Aspetta Oh cos'è partito via Niente Ma no è partito via qualcosa Ammazzato aria No Ah va qua è rimasto niente un tocco Vabbè Ti puoi mamma Ho scoperto che Questa è una parte ok Questa è l'altra La chiudi E apri l'altra Che fortuna incredibile Morgana Che scoperto Wow E poi si Qua ci metti un anellino Ti fai anche la collana Da sette chili e mezzo Vai apri il tuo Io ho di trovare lime Gusto lime Gusto lime Gusto lime Cos'è? No aspetta cos'è che è? O mela Per me è mela 99 su 100 è mela Sentiamo Che carino Fallo vedere in camera Fallo vedere in camera Per ritirarlo fuori Oddio Questo Oddio Lime A me Perché non metto a fuoco? A me sembra più vicinetta Sinceramente Lime È Lime Si ammonto di vicinetta È Lime Sentire? Sì è vicinetta Vai mo Guarda perché non posso alzare il telefono Per far vedere la faccia della Milady In questo momento Perché se no si vedrebbe il retro Cioè si vedrebbe la cucina Non mi sembra il caso Di far vedere mezza casa Però vi posso assicurare Che in questo momento C'è Milady Con una faccia Che ve la consiglio Millie fa schifo? Milady Ah sì Pizze C'è la possibilità Morgana 9 minuti di video Per fare stupidate Intanto le loci guardano male Le loci dicono Anche Ariel Ma queste cosa stanno facendo? Che bello È fantastico Guarda Non vedevo l'ora di prenderlo Proprio Guarda Adesso vado in edicola Compro tutta la scatola Sì Eh sì Sono le che Quelle che Usavo per il film Queste qua Senti nel prossimo slime Lo faccio io E ti metto dentro la Guarda che l'ho rotta E guarda Ascolta Metti a fuoco Guarda 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 Ascolta un attimo Se non sono altro che Se non sono altro che Eccolo Organa Ancora un po' più Dai che ci insultano dopo Ero qua Boom Vai Va boom Cosa facciamo? Salutiamo? Aspetta No salutiamo Dai Ero a mettere via Avranno già tagliato A quest'ora Perché avranno detto Queste qua sono un po' Fuori di testa No dai Per piacere Ragazzi Non abbiamo bevuto Siamo sanissime No Ti immagico Questo qua Come collana Sì no vabbè Proprio molto sobria Come collana Quindi Cosa facciamo? Salutiamo? Sì No Sì no Siamo qua fino a Stasera alle 10 A fare il video Vi salutiamo Vi mandiamo Un bacio E speriamo Che il prossimo video Sia un video Di no glitter O no? Sì Me lo auguro dai Speriamo che arrivano Incrociamo le dita Che arrivino Incrociamo le dita Incroci 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 Boom Salutiamo? Sì Ciao